Sette proposte per andare avanti sul tema dei diritti e delle libertà individuali, a partire dal matrimonio egualitario, adozione anche per le coppie omogenitoriali e per i single, legalizzazione della cannabis, superamento della legge Bossi-Fini, voto per i fuori sede, possibilità di sottoscrivere con firme digitali anche la presentazione di liste elettorali, quindi anche diritti politici. Queste sono le proposte su cui noi chiediamo che ci sia anche da parte di altre forze dell'opposizione, a partire dall'opposizione, l'impegno a calendarizzarle e a discuterle, perché riguardano i diritti di milioni di cittadini ed è importante che vi sia un dibattito parlamentare di fronte al Paese.